Piano lavoro per la Campania, quattro giorni dalla pubblicazione del bando, ci sono circa 40.000 iscrizioni per un concorso di 3.000 assunzioni e la pubblica amministrazione che non si registrava da decenni. Con questo primo bando si sbloccano 3.000 posti di lavoro in 166 comuni della Campania che hanno aderito. Sono 84 i posti disponibili nei comuni Irpini, 46 di categoria C, 11 per istruttore contabile, 10 istruttore amministrativo, 10 istruttore tecnico, 3 istruttore sistemi informativi e tecnologie, 12 istruttore socioassistenziale, 38 di categoria D, 12 funzionario risorse finanziarie, 5 amministrativo, 14 funzionario tecnico, 2 funzionario comunicazione, 4 funzionario specializzato, socioassistenziale e un funzionario di vigilanza. Il termine ultimo per iscriversi è l'8 agosto. Ci saranno le preselezioni, le prove scritte e ciò a cui si mira è concludere il concorso per fine settembre e inizio ottobre, in modo da consentire 3.000 nuovi impiegati di iniziare la loro esperienza lavorativa. Non ci sarà un limite di età per partecipare al concorso e sono ammessi sia i diplomati che i laureati. Il piano per il lavoro della campagna per contrastare la fuga dei cervelli è questo uno degli obiettivi fondamentali, evitare la desertificazione intellettuale della nostra regione. Così il governatore De Luca in occasione della pubblicazione dei primi due bandi per il concorso del piano per il lavoro della campagna.